Sabato 8 dicembre, giornata della solidarietà Roseto degli Abruzzi con associazioni, cooperative sociali e scuole che partecipano a quella che è proprio una grande festa per dire alla città siamo qui e siamo qui per chi ha bisogno di noi. L'assessore Alessandro Recchiuti alle politiche sociali coordina tutto questo grande movimento solidale per la raccolta di fondi e invita naturalmente tutti i cittadini a intervenire. Che cosa accadrà e perché saranno raccolti i fondi? È un'ulteriore dimostrazione di come la nostra città sia estremamente solidale. È una manifestazione che si ripete ogni anno. Quest'anno la differenza è che la faremo nella Piazza della Libertà, contrariamente agli altri anni in precedenza quando veniva svolta presso Via Latini. C'è l'impegno da parte di tutte le associazioni, di tutte le cooperative e anche delle scuole per dare una dimostrazione, un segno tangibile a chi ha bisogno che ci siamo, ci siamo e ci saremo. Quest'anno in particolare tra l'altro abbiamo voluto dare una destinazione diversa per quanto riguarda la raccolta dei fondi. Per questo invito tutti i cittadini a partecipare, a contribuire anche con una piccola partecipazione però fa veramente tanto perché poi insieme si riesce a raggiungere un ottimo risultato. Dicevo, la destinazione del fondo sono dei buoni pasto, dei buoni spesa che serviranno alle famiglie che si trovano oggettivamente in difficoltà. Il tutto rimarrà sotto forma di anonimato, chiaramente. Verranno date a quelle famiglie che hanno veramente bisogno per cercare di alleviare loro un attimino le sofferenze e per far passare loro un Natale migliore rispetto a quello che magari potrebbero passare in essenza di questa iniziativa.